Il video di oggi vi racconterà come abbiamo trascorso il nostro Life Therapy Day Per chi non lo sapesse il Life Therapy Day che è stato ieri è stato un giorno di sciopero dalla tecnologia, dei social network e dei videogiochi per poter dedicare un'intera giornata a vivere appieno la vita reale Facendo qualcosa di semplice e di diverso che normalmente a causa del tempo rubato alla tecnologia non riusciamo a fare Quindi vi racconteremo come abbiamo passato la giornata di ieri e... Iniziamo! Abbiamo passato l'intera mattinata studiando perché per me era il secondo giorno di scuola e Luigi come sapete studia per l'università Finita la scuola subito dopo pranzo ci siamo incontrati e abbiamo deciso di passare il pomeriggio godendoci la nostra bella terra siciliana e i nostri animali domenici Come sapete lei è Diana Ehm... Lei è Diana E adorare le coccole Ma le adora veramente tanto Mentre giocavamo sfortunatamente si è messa a piovere e siamo subito scappati dentro Ehm... Ehm... Dentro casa c'era Sofì Junior con cui siamo stati a giocare Ehm... E questi siamo noi che puliamo la pepe Ciao Pepe 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 Aaaaah Visto il brutto tempo abbiamo deciso di spostarci dalla montagna al mare Mentre scendevamo ci siamo fermati a guardare dall'alto il nostro paesino carino 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 Ehm... Sofì Ehm... 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 Ehm Dopo abbiamo giocato un po' sul lungomare, abbiamo fatto due passi e ci siamo ritirati a casa per cenare Dopo una bella cenetta siamo andati a prenderci un bel gelato, abbiamo incontrato qualche amico e abbiamo scambiato quattro chiacchiere A serata terminata ci siamo ritirati ogni ora alle proprie case E... E' stata una giornata veramente strana, senza cellulare che squillava, senza messaggi sui social Comunque è stata molto piacevole Raccontateci adesso voi cosa avete fatto in questa giornata scrivendolo qui sotto nei commenti Se vi va lasciate un bel mi piace e condividete questo video usando l'hashtag YairTherapyDay Vi ricordiamo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al nostro canale, seguirci sulla nostra pagina Facebook e Instagram E al prossimo video! Ciao!